U-Pass, anticipazioni al 25 ottobre, Damiano e il difficile percorso dopo la sparatoria. La puntata Un posto al sole, andata in onda su Rai 3 dal 21 al 25 ottobre, svela la sorte di Damiano, coinvolto in una tragica sparatoria contorrente, di cui non si conosce l'esito. Intanto Rosa si ritrova al centro di voci nel quartiere a causa della sua presunta relazione con Don Antoine. E Silvia e Michele si rendono conto che qualcosa non va nel comportamento di Guido. Dopo aver aiutato Diana, Rosella ha anche la possibilità di iniziare a collaborare con il suo medico, Fusco, per aiutare Damiano a superare i suoi momenti difficili. Viola avrà la sensazione che a Damiano possa succedere qualcosa di terribile. Nel frattempo scoppia uno scontro a fuoco tra la polizia e i camorristi del clan torrente. Dopo l'accaduto Viola, Ornella e Giulia cercano di offrire aiuto al poliziotto Renda, ma senza successo. Cosa accadrà al rendering? Le anticipazioni confermano che Damiano vivrà un'esperienza tragica. Tuttavia non sono stati forniti molti dettagli. Mentre cerca di catturare il suo capo torrente, accade qualcosa di terribile e l'uomo viene messo in crisi. Il piano è vedere Damiano sopravvivere vivo allo scontro a fuoco, ma c'è la possibilità che venga ferito in qualche modo? C'è anche una teoria secondo cui l'agente di polizia è scioccato ma ne esce illeso. Secondo questa ipotesi Damiano potrebbe essere rimasto traumatizzato dalla tragica uccisione di un passante, collega o capo. Non ci sono molti elementi al momento, ma un furgone insanguinato sparato sulla scena del crimine e un'anteprima sembrano puntare in quella direzione. Restano storie dal 21 al 25 ottobre, Guido diventa sempre più egoista, Rossella aiuta Diana Rosa viene a sapere che l'irrequietezza di Manuel è dovuta alle voci che circolano nel quartiere sulla sua presunta relazione con Don Antoine. Inoltre, nonostante le buone intenzioni, Giulia ha finito per peggiorare la situazione. Diana ha un incidente durante la riabilitazione, ma riesce a chiedere l'aiuto di Rossella. Il medico inizia quindi a lavorare a stretto contatto con il suo medico curante, Fusco. Silvia e Michele sono sempre più delusi dal comportamento egoista e superficiale di Guido. Quest'ultimo metterà in seria difficoltà il signor Sabiani e gli imporrà di fare pressioni sull'ex proprietario per permettergli di vivere più a lungo nell'appartamento. Mariela viene a sapere che Lello Troncone è un uomo che vive ai limiti della legalità e fa di tutto per mettere in guardia vice da quest'uomo. Marina mancherà sempre di più a Roberto finché un evento inaspettato non cambierà la situazione. Manuela finisce per sostenere l'esame, ma i risultati non sono quelli che voleva. Manuela finisce per sostenere l'esame, ma i risultati non cambierà la situazione.